Ciao Survivor! Oggi voglio darti il mio parere su Dario Callara. Dario Callara è un esperto di difesa personale che puoi trovare su YouTube e devo dire che mi sta molto simpatico. Oltre alla simpatia personale ha un curriculum di tutto rispetto. Io facendo delle ricerche ho visto che è stato istruttore delle forze armate in Peru e ha tenuto anche dei corsi di formazione per le forze dell'ordine in Italia. Inoltre ha il grado di maestro di Krav Maga e il grado di maestro di strutture di tiro. Quindi ha un ottimo background, ha fatto arti marziali da quando era piccolo, pratica tutt'oggi sport da combattimento, si allena con atleti di MMA e in più ha la propria scuola di difesa personale che si chiama metodo di combattimento urbano. La sua idea di autodifesa è molto simile alla mia, quindi mi ci ritrovo in moltissimi ragionamenti, proprio perché anche lui ammette che la difesa personale è qualcosa di diverso dalle discipline marziali o sport da combattimento. È qualcosa che si allena soprattutto in via preventiva, con condizionamenti psicologici, atteggiamenti e poi in piccolo ovviamente una parte pratica, l'allenamento, che però non deve essere imparare uno stile di lotta o un'arte marziale, ma deve essere imparare quel poco ma utile da poter usare nelle situazioni in cui ci spera di non trovarsi mai. Quindi è uno di quelli che con determinazione ha sfatato i classici disarmi che fanno vedere da coltello piuttosto che da armi da fuoco, nonostante per esempio molti video di Krav Maga li facciano vedere, invece lui coerentemente, sapendo quello che può capitare, spiega come sia davvero difficile, se non impossibile, difendersi da certi attacchi. Ovvio che se non hai alternative e provi a difenderti e quindi fai degli esercizi che possono darti qualche possibilità di reazione, però è pur vero che contro un coltello, contro un'arma da fuoco le possibilità sono davvero ridotte. Quindi il mio parere è molto positivo. Poi ho visto che anche lui, come me, è sotto l'entita di promozione sportiva Opes, quindi chissà, magari in un futuro potremmo anche riuscire a organizzare uno stage insieme e conoscerci di persona. Sicuramente mi farebbe molto piacere.